bella raga buonasera bentornati ben ritrovati finalmente quarto ed ultimo video del giorno ovviamente parlo parlo per quelli che hanno visto tutti i tre precedenti no dagli su appena finito di vita la partita dell'inter ci ha preso dei schiappori in bocca 3 a 1 e tutti a casa con la coda a mezzo si cambia come sto a veder napoli bellissima partita l'altro libro del gioco spettacolare vabbè comunque arrivano pure i messaggi su facebook comunque e dai è così posto da fare i numeri allora ma raga perché stiamo qua già mi sono ascoltato tanto faccio vedere un po qualche cosa perché sennò mentre parlo tra salini metto me lo sfondo va così faccio qualcosa almeno dunque perché stiamo qua raga perché state qui a vedere sto video innanzitutto come avete detto dal titolo apro ufficialmente la lotteria adrenary mamma mia guarda le giuro manco me va che ricomincia a fare il video sti cavoli tenetevelo così la lotteria calciatori figurine 2017 2018 finalmente diventa realtà raga come ho promesso raga consentitemi un attimo questi passaggi davanti alla videocamera che non riesco a stare fermo sono stanco ma voglio mettere stragiata a vedere la partita però faccio l'ultimo sforzo solo per voi è anche perché raga lo faccio sempre con molto piacere guarda prima prima dei libri di mostrare il premio dei libri di regole per partecipare le voglio voglio fare una piccola una piccola una piccola storiella insomma ecco ma lo posso chiamarmi cioè raga a me sinceramente mi dispiace che alcuni di voi provino invidia nei miei confronti perché comunque sia c'è postato però raga stiamo a parlare dei garciatori perché dico questo perché mi capita di legge che cosa a me fa piacere poi dall'altro ricevere vabbè ho letto cioè ricevo dei commenti negativi con degli insulti cioè io non so qui non mi metto a piani sia chiaro anzi mi fa sorire la cosa perché almeno mi rende la giornata diversa dalle altre no perché sennò davvero ricevi solo dei bei commenti eh ricevere soltanto i mi piace per dire no raga per farmi capire cioè ci può pure stare però cavolo eh motivatemeli o quantomeno raga solamente ripeto stavo a parlare dei figuri non stavo a parlare non stavo a parlare a fammi del mondo eh e poi tra l'altro raga per quelli che mi servono tanto tempo lo sanno benissimo come ho fatto con le scenarine che ho aperto e chiuso eh tre tre lotterie la quarta è ancora aperta cioè comunque sia io sto qui vi voglio vi voglio felici insomma no ho impresa a male che ve lo del culo perché c'è tutta sta roba perché tra l'altro raga i soldi sei mia non è che ti venga a casa a casa tua a casa tua non so ma intendo che quello che sta a prendere a male è che sta a perdere i soldi capito che ti voglio dire comunque vabbè un po' di un po' più di intelligenza raga ho capito che stiamo ciò che a che fa con un livello di fascelle da basso medio basso basso medio insomma come cazzo si dice cioè la mia pure l'intelligenza mia è come la vostra parliamo se chiaro anzi come metto io nei livelli nei vostri panni eccetera a livelli vostri comunque spero di essere stato da vedere se è stato inteso insomma mi hai fatto capire se è stato stile dunque allora come detto è ufficiale l'apertura della lotteria che cosa ho messo un premio raga ve lo faccio vedere subito perché chi è un buon osservatore qua manca qualcosa nei miei ultimi due video il mio sfondo era diverso ebbene sì raga eccola qua lo starter pack calciatori panini figurine 2017-18 raga è il premio è l'unico premio vincitore per cui della lotteria prima lotteria contest lotteria mi piace più lotteria perché l'ho che mi dovete stare pure da soddisfazioni voi soprattutto quelli che mi seguono da tanto tempo raga io voglio sapere chi sono questi che si facessero vivi che non non abbiano veramente timori che io gli possa che non so di qualcosa di brutto anche perché io rispondo a tutti i commenti tanto sottofondo raga partita del napoli a torino napoli cioè veramente mi fa piacere io come detto so aperto a tutti i generi di commenti di critiche perché bisogna essere pure auto ironici regana vita se no se ne sempre fanno che andrà male per niente addio se picciamo ok dunque quindi mi raccomando sempre con il sorriso in faccia sempre bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno tocca essere ottimisti pure nelle brutte vicende che accadono nella propria vita no ok ci siamo amma mia pare che sto a fare cose il catechismo comunque detto questo rega mostrato il premio vado con le regole sono molto semplici magari per quelli che coloro che si sono appena iscritti non hanno avuto modo di partecipare alle precedenti per cui non sentire le regole non conoscere le regole tanto poi le scriverò anche in descrizione per i più piccoli sono sempre le stesse ovvero mettere mi piace al video commentare il video il medesimo video con una bella hashtag partecipo perché vale perché adoro l'azzurrina vedere il commento diverso dagli altri insomma quelli standard in eretto che brutto iscrivervi cioè io vi consiglio poi è sempre facoltativa la cosa però comunque iscriversi va bene alla salute perché ripeto non è la prima ma è la prima di una lunga serie ok lo smetterò mai di dirlo e che altro alle iscrizioni sono aperte fino al alle 23 59 del giorno 21 12 2017 quindi cinque bei giorni pieni a partire da adesso e dopo di che basta non qualche ultima lotteria rega veramente ho dato ho fatto partecipare gente che ha voluto si è scritta praticamente già dopo la termine delle possibili iscrizioni ok ci siamo bene così a quella la quarta non so se l'ho detto perché il tipo la seconda volta che faccio il video poca bello io lo ripeto nel caso in cui non l'avesse già detto non l'ho detto lo dico la quarta lotteria adrenalin ultima quarta ed l'ultima lotteria adrenalin xl 2017 e 2018 è ancora aperta scade domani sempre alle 20 e 59 per chi non l'avesse vista insomma l'apertura andatela a vedere se vi interessa insomma ecco tutto ciò che trovo è il premio tutto quanto allora poi un'altra cosa anticipo anticipo subito ci sarà un unico vincitore essendo un unico premio ma estrarrò tre nominativi come faccio sempre dica tre nominativi il quale il primo ovviamente è il vincitore assoluto se non dovesse farsi sentire in tre giorni poi comunque sia lo ripeterò questo questo fatto nella estrazione se non dovesse farsi sentire nell'arco di tre giorni passo al secondo miniativo e via dicendo ok penso di aver detto tutto regà veramente la cosa che me che me raccomando fatevi sentire fatemi sentire veramente che sia una cosa sola perché questa è una cosa importante cerco sempre di essere una persona molto socievole aperta a tutto ogni cosa comunque avete capito insomma spero che abbiate capito che persona insomma sono stato ribattezzato babbo rm anziché babbo rm bellissima complimenti all'utente che ora che lo saluto ma che non mi sfugge il nome scusami detto cioè regà io mo chiudo qua mi butta a vedere la partita mi mangio un pezzo di pizza vi abbraccio a tutti quanti rica calorosamente uno a uno tutti i miei iscritti perché veramente sono salito un botto grazie veramente grazie a voi di tutto e mi raccomando fate i bravi perché sennò poi le conseguenze sono quelle che le vedrete eh non so se non mi porto qui niente però a parte scherzi mi raccomando fate sempre i bravi un bacione a tutti ciao ragazzi